Che state facendo? Stiamo raccogliendo le cicchie di sigarette. Noi siamo la Gioventù Francesca, la Gifa del San Biagio di Nola e stiamo raccogliendo tutte le cicchie di sigarette. Questo perché è in previsione di domani che è San Francesco innanzitutto e quindi San Francesco parlava sempre di quella che la salvaguarda del creato, parlava sempre del creato e noi vogliamo salvaguardarlo. Questo è un modo, è semplicemente un esempio perché noi sappiamo benissimo che il comune di Nola ha macchinette apposite per poter fare questa pulizia. Però è anche un modo per sensibilizzare i giovani e non solo, tutte le persone di Nola. Anche perché una sigaretta senza filtro per decomporsi ci mette dai 5 ai 6 mesi. Una col filtro addirittura da 5 a 12 anni e quindi dobbiamo fare qualcosa e forse questo può aiutare la nostra città. Quindi stamattina cosa pulite? Puliamo le strade, togliamo le cicche che ci sono. Allora per prima cosa via Piazza Giordano Bruno. Abbiamo fatto anche dietro Piazza Clemenziano. E' tantissimo da fare, cioè tantissimo. Speriamo di poter andare anche oltre Piazza Giordano Bruno. Andare magari davanti al comune. Chiunque volesse venire è benvenuto. E quindi domani San Francesco troverà la piazza pulita. Quindi Nola... Si spera, se stasera non sa di nuovo com'era stamattina. Come l'altra mattina, va bene. Allora mettetevi un po' tutte... Quante cicche? Tantissime. Forse troppe. Forse troppe. Sperate... Che magari un'altra volta saranno di meno. Un'altra domenica mattina. Va bene. Grazie a tutti voi. Grazie a voi. Grazie a tutti.